Musica Volley Superleague in gara 2 di finale Scudetto Perugia guida 2 a 0 ma poi si fa rimontare da una Lube Civitanova capace di vincere al tie-break e che impattare la Serie sabato si torna al Pallevangelisti per gara 3 Calcio Serie C, Gubbio domenica riposa ma i risultati delle dirette concorrenti potrebbero già regalare la salvezza con un turno d'anticipo Ai nostri microfoni rosso-blu Daniele Pedrelli, basket, Valdiceppo e Gubbio al rush finale Buonasera per i ritrovati con l'informazione sportiva da TRG Partiamo con il volley con la Superleague in primo piano perché la Sir Perugia assapora ma assapora soltanto il 2 a 0 nella Serie finale che assegna lo Scudetto perché ieri sera in vantaggio di 2 a 7 si è fatta rimontare a perso al tie-break e ora la situazione dunque è in parità 1 a 1 con la Lube Civitanova Vediamo Crollo verticale, avanti 2 a 0 Sir Safeti con Ad Perugia non riesce ad assestare il colpo decisivo facendosi rimontare e battere al tie-break da una Lube Civitanova che dimostra di avere orgoglio ed attributi da vendere pareggiando così 1 a 1 la finale Scudetto di Superleague al loro sole di Civitanova la Sir vince i primi due set per 22-25 e 24-26 vedendosi spalancare le porte del Paradiso poi la lenta ma inesorabile discesa negli inferi con la Lube che fa suo di forza il terzo parziale per 25-17 ma il quarto il set decisivo Perugia scappa sul più 6 sino al 9-15 e intravede di nuovo la linea del traguardo ma un break bianco-rosso di 5 a 0 riporta tutti in discussione ed i muri di Sokolov e Stankovic segnano il 2 a 2 sul 25-23 nel tie-break la Sir resta contatto sino all'8-6 poi Civitanova scappa ancora sul 13-7 Perugia prova ad accorciare ma è ancora Sokolov a chiudere sul 15-11 per il 3-2 finale portando la serie in perfetta parità non basta una Tanasevic da 25 punti neppure i 13 di Russell oltre all'importante apporto della coppia di centrali Podashkanin e Anzani che chiudono con 11 punti a testa una doccia gelida per il team bianco-nero chiamato ora a trasformare la rabbia per l'occasione non sfruttata in energia positiva sabato sera alle 20.30 in un palevangelisti che si preannuncia come al solito infuocato scatterà l'ora di una gara 3 che potrebbe essere cruciale per indirizzare la serie che assegna il tricolore Da secondo sete in poi non ci siamo funzionati abbiamo avuto un sacco di situazioni per chiudere, per andare avanti abbiamo fatto un sacco di errori comunque loro non hanno molato ma noi non ci siamo creduti abbiamo molato di testa abbiamo fatto troppi errori quello che abbiamo fatto a Trento non va bene però c'è da lavorarci perché se per due sete abbiamo dominato possiamo anche farcela ancora quindi adesso dobbiamo mettere la testa sotto l'acqua fredda e sabato la giochiamo in casa quindi una finale ci sta quindi dobbiamo migliorare e provare a fare questi meno errori le prossime volte Questi sono i finali di playoff bisogna sempre stare lì bisogna sempre battere bene il nostro gioco dipende anche tanto dalla nostra battuta prima di tutto bisogna recuperare bene perché siamo veramente distrutti a parte fisicamente anche un po' mentalmente però è molto importante adesso andare più presto possibile a letto dimenticare tutto recuperare bene entrare meglio è possibile alla partita di sabato e giocare fino alla fine abbiamo vinto l'agro season proprio per quello ce l'abbiamo tifosi più importanti più forti del mondo che sono sempre ormai è diventata una frase che ripeto sempre il nostro settimo giocatore però bisogna capire se noi non possiamo vincere solo la partita di Perugia noi possiamo dare a fare qualcosa in più come potevamo fare stasera e chiudere le serie e siamo al calcio seduta pomeridiana per il Gubbio che domenica riposerà come da calendario nel penultimo turno di serie C i rosso blu si preparano per l'ultima partita in programma domenica 6 maggio nella trasferta a Padova squadra già promossa in serie B una partita che potrebbe avere anche un valore relativo per la classifica perché le gare del prossimo turno tra Fano e Teramo e Vicenza e Bassano potrebbero già far staccare il rosso blu il pass per la salvezza diretta senza neppure scendere in campo in ogni caso Sandriani per la sfida dell'Euganeo recupererà anche Paolelli e Cazzola ambe due assenti domenica a Bassano ma non potrà contare sul portiere Volpe e sul centrocampista Ricci entrambi squalificati al loro posto si scaldano Battagliola tra i pali e Bergamini l'autore del gol che potrebbe diventare gol salvezza in mediana ma sentiamo le parole del laterale mancino Daniele Pedrelli tornato protagonista nelle ultime settimane dopo un lungo periodo ai box dobbiamo cercare di stare concentrati di affrontare la settimana con la concentrazione più alta possibile perché sappiamo che ci manca poco però quel poco può diventare tanto quindi noi dobbiamo affrontare la settimana senza pensare a quello che succederà poi domenica e martedì faremo i conti noi sappiamo che comunque ci manca quel punto che noi dobbiamo pensare che dobbiamo andare a Padova e cercare di fare quel punto poi quello che succederà succederà ecco però che domenica sarà non in campo ma da spettatori interessati per quanto riguarda le altre partite? ma sicuramente sarà una domenica dove un po' diciamo l'orecchio lo butteremo negli altri campi però sempre pensando che ecco poi al novantesimo faremo i conti però dobbiamo rimanere concentrati inizialmente diciamo non benissimo perché ho avuto questi problemi poi grazie comunque al dottore allo staff siamo riusciti a arrivare forse al perché mi succedevano queste cose ecco e quindi ora è un po' che sto bene poi si appunto con l'arrivo del mister Sandriani adesso ho trovato continuità e sto bene ecco sto cercando di dare il massimo contributo che riesco alla causa dopo un'annata così per noi in questo momento è il principale pensiero di tutti noi ecco restiamo al calcio in serie B dopo il brusco stop nel derby con la Ternani il Perugia corre in vista della trasferta di sabato sul campo dell'Ascoli dell'ex Cosme una partita in cui Breda non avrà certamente a disposizione il difensore della Fiore che si è infortunato al ginocchio nella seduta di Marte Lì e la sua stagione può dirsi conclusa per questo l'allenatore Trevigiano dovrebbe confermare in blocco la squadra vista sabato contro le Fere con unico ballottaggio che può riguardare la corsia Mancina dove Pajac contende una maglia a Terrani sulla tre quarti va verso la conferma a buon aiuto a scapito di Diamanti designato l'arbitro di Ascoli Perugia sarà pezzuto della sezione di Lecce siamo al basket in serie B nazionale dopo l'ultima sconfitta Giulianova nella gara conclusiva della regular season scalda i motori per i play out il Val di Ceppo i pontegiani affronteranno il Nardò con una serie al meglio delle tre gare si parte martedì primo maggio alle 20.30 in terra pugliese gara 2 si disputerà giovedì 5 maggio al pala Cestellini con l'eventuale belle in programma ancora a Nardò martedì 10 maggio Val di Ceppo dovrà per forza vincere una gara fuori casa per raggiungere la salvezza in stagione regolare la Sicom ha perso sia nel match d'andata che in quello di ritorno con i pugliesi e invece in serie D sempre di basket si avvicina la resa dei conti stagionali per l'Emi basket Gubbio domenica alle 18 i Biancazzurri chiuderanno la seconda fase a domicilio contro la capolista Spello che comanda la graduatoria 34 punti gli Eugubini sono al momento secondi a pari punti con Perugia e due lunghezze avanti a Cannara Sisi ed Eller una vittoria domenica garantirebbe il secondo posto per il quintetto di Spoglie dunque il fattore campo a proprio favore nella semifinale playoff in caso di sconfitto invece gli Eugubini dovranno guardare gli altri risultati e sperare che le varie combinazioni non li facciano scendere in quinta posizione che non consentirebbe al Gubbio di disputare i playoff è tutto per questa edizione del TG Sport di stasera TG Sport che andrà in replica intorno alla mezzanotte e mezzo e che ritroverete domani sul nostro sito trgmedia.it grazie e buon proseguimento di serata e buon proseguimento